17 giugno 1942 nasce lo stilista nicola trussardi nel 1970 trussardi prende in mano l'azienda di guanti del nonno e la trasforma in uno dei marchi di moda mondiali l'attività della griff inizia con una linea di accessori di lusso per passare poi negli anni 80 all'abbigliamento sia maschile che femminile fino ai prodotti di design trussardi muore in un incidente stradale il 14 aprile 1999 il progetto che più